Veronica Peparini e le due gemelline sono a casa da pochi giorni. Dopo il parto cesareo le tre sono rimaste in osservazione per qualche giorno in ospedale ma adesso tutta la famiglia si trova le accoglienti mura domestiche. Veronica e Andrea Smuller sono colmi di gioia e sui social non possono non condividere gli scatti delle gemelline, uno in particolare non può non commuovere. Ginevra e Penelope sono nella culla, si guardano negli occhi e si danno la mano. Un'immagine poetica che ha commuovere a corredo di quello scatto la mamma ha scritto, racchiusa in una foto il senso di tanta fatica, sacrificio ed è stato bello, doloroso, gioioso e anche triste certe volte ma poi ce l'abbiamo fatta, non possiamo di certo dire di essere stati da soli ad affrontare tutto, abbiamo avuto un sostituto, è stato bello, doloroso, gioioso e anche triste certe volte ma poi ce l'abbiamo fatta. A partire dalla mia ginecologa sempre attenta e precisa Chiara Ciglia, le super dottoresse salvavite Isabella Fabietti, Milenottole e tutto lo staff dell'ospedale pediatrico bambino Gesù, l'ospedale San Pietro fate bene fratelli con tutte le ostetriche e professori, dottoresse e le infermiere che ci hanno seguito e ci sono stati a grazie e grazie di cuore immensamente da me e Andre anche a tutti voi che ci siete vicini da anni da, è Romeo per me e Romeo per loro e Romeo per tutti . . . che flash! Chi grazie e grazie di cuore immensamente da me e Andre anche a tutti voi che ci siete vicini da anni da, è Romeo per me e Romeo per loro e Romeo per tutti . . . un post condiviso da Andreas Chiocciola Muller sottolineatura Andreas.